In passato se ne trovavano in abbondanza nei corsi d'acqua, oggi invece rischiano di estinguersi. Eppure questo segnale è sottovalutato. I gamberi di fiume rappresentano una ricchezza. Tra le varie cose la loro presenza certifica acque limpide e dunque un ambiente ancora sano. Di questo ne è cosciente l'Unione Europea, che ha finanziato il progetto LIFE proprio per salvaguardare la biodiversità. La biodiversità nel suo complesso, e quindi anche il gambero di fiume, ha un'importanza fondamentale per la sopravvivenza umana, anche se questo sfugge normalmente, perché la biodiversità nel suo complesso permette al pianeta, agli ecosistemi, di funzionare correttamente. Quindi la biodiversità è un elemento fondamentale per la funzionalità degli ecosistemi. Senza la funzionalità degli ecosistemi si pensi solo all'impollinazione, si pensi a quanto sono importanti gli impollinatori. Senza di loro probabilmente la sopravvivenza dell'uomo sarebbe a più breve scadenza di quanto non sta già facendo con i danni, i disastri che sta comportando, sta provocando al pianeta. In Molise qualcosa si sta già facendo. Da qualche tempo è attivo un centro di riproduzione del gambero di fiume. Il monitoraggio dei corsi d'acqua è affidato a Italia Nostra. Siamo riusciti a individuare qualche corso d'acqua, qualche tratto di torrente montano che ancora conserva un buon numero di questi esemplari. Il compito nostro insieme all'associazione FIPSI, quindi e soprattutto Antonio Di Giorgio, è stato quello di prelevare un determinato numero di esemplari, senza rovinare le colonie esistenti, e di portare questi esemplari in determinati centri. Il centro di Rocchetta, che è il centro principale, quindi sulle sorgenti del Volturno, è una quota nella strussaria di Sessano del Molise. Pensiamo di aver raggiunto un ottimo risultato.